Ciao a tutti dal Piero Allora, video che mi aveva chiesto anche Tony C e che era già in programma io ho dovuto prendere un po' di informazioni perché sapevo benissimo chi era fraiese ma non sapevo quello che gli stava succedendo cioè sapevo che l'aveva allontanato momentaneamente dalla posizione medica sono andato a prendere un po' di informazioni perché sapere che fraiese è un medico è importante sapere che medico è lo è ancora di più quindi cosa succede? mi rendo conto che oggi come oggi siamo in tanti a parlare di scienza e sono tanti che mi parlano di scienza e non riescono a distinguere fra scienza e scemenza ora vi spiego perché queste due foto semplicemente qua abbiamo un medico di qua abbiamo un tecnico un tecnico ok? che cosa accade con queste due persone con queste due figure? accade una cosa ben importante accade che questo signore qua allora partiamo dal fatto vi ricordate quando io parlavo di studiare le cose giuste di evitare di studiare cose che in futuro non serviranno questo signore qua è andato oltre si era laureato non solo in medicina ma è un biomedicina è un biomedico il curriculum di fraiese io ve lo faccio vedere ce l'ho qui il curriculum di fraiese se mi permettete mi sposto ok? questo è il curriculum di fraiese è un biomedico è un biomedico questo lo capite questo è un biomedico uno che ha studiato biomedicina non è un deficiente non è un deficiente uno che dice io non vaccinano mai mia figlia ne ha tutti i motivi uno che ha salvato vite 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 fior fior di vite migliaia di vite dal covid senza bisogno del vaccino è uno che va rispettato va rispettato perché? perché comunque è uno che ha onorato in pieno il giuramento di Ippocrita ha onorato in pieno il suo giuramento questo è il dottor fraiese che cosa accade tra le altre cose? tra le altre cose a parte di averlo allontanato dopo che ha tra virgolette schiaffeggiato Sileri ex compagno di scuola tra l'altro Sileri vice ministro della sanità se non ricordo male oltre ad essere stato allontanato è stato è a rischio di radiazione radiazione dall'albo dei medici perché? perché ha esposto delle teorie che non sono poi così tanto teorie ha dimostrato da medico da medico che questo peraccino non funziona non è buono non è buono allora io nel momento in cui nel momento in cui io ho bisogno di un medico nel momento in cui spero mai dovesse avere un tumore vado da un oncologo se ho un problema col sedere vado da un proctologo se ho un problema con la gola con la gola o con le orecchie vado da un otorinola ringoiatra capite cosa voglio dire? non vado da un tecnico questo signore qua non è neanche medico ed è il maggior azionista il maggior azionista dell'OMS è il maggior azionista dell'OMS questo signore qua lo capite? questo qua con una siringa in mano che non dovrebbe nemmeno averla perché non è medico non è nemmeno infermiere quindi non potrebbe nemmeno averla una siringa in mano questo signore qua si permette di di spiegarci quale pandemia arriverà Nostradamus questo fa Nostradamus riesce a capire quale pandemia arriverà come arriverà e che cosa servirà e ci indovina e ci indovina allora per quello che dicevo all'inizio all'inizio video ci siamo ci siamo veramente fusi il cervello se non riusciamo a distinguere la scienza dalla scemenza la scienza da chi ci vuole guadagnare da chi salva la differenza fra chi salva vite e chi le vite invece le vuole stroncare in un muro o nell'altro c'è un video sul mio canale cercatelo Bill Gates vuole ridurre la popolazione mondiale cercatelo io sono seriamente allibito sono seriamente allibito perché non riesco a credere veramente che riusciamo ad allontanare un personaggio così e ci fidiamo di uno così se ho bisogno se ho bisogno di un medico cioè se sto male valerò un medico non valerò un tecnico questo casomai lo posso chiamare se ho bisogno se ho bisogno col computer e neanche perché io personalmente uso Apple quindi non ho neanche bisogno di lui ma a prescindere adesso la battuta a prescindere da questo a prescindere da questo io continuo a ripetere dobbiamo aprire gli occhi perché non possiamo fidarci di gente così io voglio sapere in quanti sapete in quanti sapete che in questi giorni si sta votando per centrare tutto il potere sanitario nelle mani dell'OMS cioè se tutto quanto passa se tutto quanto passa l'OMS deciderà se fare vaccini se mettere vaccini obbligatori se fare quarantene se fare lockdown come fare vaccini ogni quanto fare vaccini e bisogna rispettarli stiamo centralizzando tutto stiamo centrando tutto il potere sanitario nelle mani dell'OMS e lo stanno facendo lì nascosto gli stati noi siamo distratti dalla guerra in Ucraina e nel frattempo stanno centrando tutto il potere nelle mani dell'OMS l'OMS che vorrei ricordarmi che il primo il primo a a sovvenzionare l'OMS è proprio questo signore qua in tanti ore mi diranno no non è vero sono gli Stati Uniti poi c'è questo signore qua fermi fermi questo signore qua direttamente con le sovvenzioni dirette è il secondo dopo gli Stati Uniti poi sovvenziona delle altre aziende che sovvenzionano l'OMS e nel complessivo questo signore qua è il maggior sostenitore dell'OMS uno che produce vaccini sostiene un'azienda perché l'OMS sta diventando un'azienda che vi dirà se farò noi vaccini ora capite che qui non si parla neanche più di conflitto di interesse qui è solo interesse è solo interesse e ve lo dico chiaro chiaro questo è solo interesse nel frattempo questo signore qua lo stiamo radiando dall'albo questo signore qua si presenterà in tribunale da solo senza avvocati per difendersi per difendersi difendersi da che cosa? dall'accusa di aver salvato vite senza far uso di questa merda qua senza far uso di questa merda qua stiamo scherzando? stiamo scherzando io vi invito a sostenere a cercare in modo di sostenere su internet c'è come poter sostenere il dottor il dottor fraiese cerchiamo di sostenerlo perché non possiamo permettere ai medici ai medici di essere radiati perché non sono d'accordo con quello che dice questo signore qua non ce lo possiamo permettere se non apriamo gli occhi se non ci svegliamo è finita è finita forse non avete capito quello che sta accadendo e questo è che probabilmente voi non avete ancora capito quello che sta accadendo sta accadendo una cosa incredibile si sta invertendo l'ordine mondiale si sta capovolgendo l'ordine mondiale ci vorranno anni anni di carestie e di e di e sicuramente 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 di lacrime e sangue anni non uno due anni anni stiamo parlando di una decina d'anni questi signori qua hanno scatenato ecco perché parlavo della guerra rossi-ucraina hanno scatenato una guerra per mantenere l'ordine mondiale come lo vogliono loro e per imporlo un ordine che vede che questi signori qua che non si piegano ai diktat del signor del signor Gates vengono cacciati fuori vengono cacciati via io vi dico in tutta onestà in tutta onestà cerchiamo di sostenere il dottor Fraiese perché se no se no veramente se se non riusciamo a distinguere fra chi fa del bene e chi ci vuole male siamo messi veramente male siamo veramente messi male un bacio dal Piero ci vediamo al prossimo video ciao